Milan vittorioso 2-1 quest'oggi nella Youth League, così non mi cazziate più, ho imparato a dirla, Youth League o se preferite la Lega della Giovinezza, così mi esce in Google Translate dove il Milan come detto appunto batte 2-1 il Red Bull Salzburgo, forse la squadra favorita di questo girone e si giudica così il primo posto e la qualificazione che però era già avvenuta settimana scorsa sempre in gol Gabriele Lesi, quarta rete in tre presenze proprio in questa Youth League mentre secondo gol per Lazatic con il Milan Primavera, bravissimo, con un diagonale a battere il portiere del Red Bull Salzburgo tutto si è svolto in 5 minuti, i gol come sempre li trovate nel mio Twitter, trovate il link qua sotto in descrizione assieme come sempre dico il link di Sorare, nuovo gioco online sul calcio al quale tutti potete partecipare e vincere interessanti premi tornando noi cioè al Milan Primavera e all'11 con il quale siamo scesi in campo vedete qualche cambio, ingresso di Simic, Bartesaghi al posto di Bozzolan e Paloschi che sono più i due che hanno giocato perlomeno più partite in questa prima parte di campionato stesso discorso centrocampo dove ha giocato Gala sono però entrati tanto Pluvio, autore di una buona prestazione e anche dell'assist per il secondo gol di Gabriele Lesi e Darius Stalmak sul quale c'erano un po' gli occhi di tutti quelli credo noi milanisti che abbiamo guardato questa partita nuovo acquisto di quest'estate, calciatore molto interessante che da quanto dice lui stesso dovrebbe già venire a giocare nel Milan Prima Squadra a partire da gennaio quello vedete schierato come mezzala però realmente è stato lui il perno davanti alla difesa e devo dire che gli ho visto fare anche buoni interventi difensivi cosa che nel programma di scouting non avevo potuto vedere ho visto belle giocate offensive ma difensivamente mi ha impressionato in maniera positiva davanti poi confermato Gabriele Lesi in grandissima forma ancora in gol quest'oggi prima punta Marco Lazzi ha giocato 60 minuti trovando un bel gol accompagnato poi da Scotti che qua in questa schermata si sono dimenticati di scriverlo buona notizia quindi per quanto riguarda la Youth League la scorsa settimana ha portato bene il Milan Primavera ha battuto la Dinamo Zagabria è successo lo stesso poi con la prima squadra speriamo che questa sera succeda più o meno lo stesso un 2-1 per noi direi che va più che bene di tutti i giovani del Milan Primavera l'unico presente su Sorare che si può acquistare attualmente è l'AZT ci è valutato però 20 euro tantissimo per un calciatore che probabilmente non giocherà in prima squadra neanche quest'anno potrebbe essere interessante la carta qualora andasse in prestito allora cominciasse a giocare titolare in una lega professionista e quant'altro quindi la carta inizierebbe a prendere un po' di punti per il momento ce ne sono parecchie in vendita ma credo in pochi contenti di avere le squadre perché come detto difficilmente quest'anno a meno che non sia stato in prestito molto difficile che giocherà qualche partita e quindi che questa carta prenda valore invece un calciatore sceso in campo quest'oggi dal Red Bull Salzburgo molto interessante questo Samson Baidu e ha già giocato lui invece a differenza di Lazatic in prima squadra qualche partita costa un po' meno 17 euro ed è spesso presente nella panchina del Red Bull Salzburgo oggi in piena impiegato nella Youth League però questo si tratta di un calciatore che nell'arco dell'anno qualche minuto in più lo può trovare magari il prossimo anno già prendersi un posto tra i titolari del Red Bull Salzburgo mi è piaciuto molto questo Samson Baidu che ovviamente seguirò anche se come detto prima di acquistare la carta preferisco io come detto sempre acquistare le 4, 5, 6 euro massimo perché poi si rischia di andare a perdere soldi quando si acquistano così care quando i calciatori non giocano come promesso poi un occhio ai risultati della mia settimana appena passata è andata malissimo su questa formazione vi ho detto che ero molto fiducioso non ho vinto niente qua ho vinto una carta Tier 1 Common che non è niente di che però mi è andata bene con la Tier 1 Common perché mi è uscito questo Daichi Kamada che se vi ricordate ne avevamo parlato anche qua sul canale un trequartista che gioca nell'Eintracht ai tempi sembrava fosse anche stato seguito dal Milan quest'anno sta trovando una gran bella continuità guardate una media di 73 punti a partita guardate le sue ultime partite sempre in gol o con un assist quindi almeno il premio non è stato niente male nonostante una Tier 1 Common è difficile che ti esca qualcosa di molto interessante ma questo Daichi Kamada tanta roba questa giornata invece è iniziata bene però ormai non dico niente perché mi iniziano sempre bene poi finiscono male vediamo cosa vinco però io spero di nuovo di avere almeno una Star Command o una carta gialla di quelle che si possono vincere alla fine secondo me mi dovrò anche in questo caso accontentare della Tier 1 con fortuna in tutti i due casi vediamo comunque vi terrò aggiornati come sempre a questo sotto trovate il link per iscrivervi al gioco una volta arrivati a 30 amici che avranno completato l'obiettivo mi regaleranno una carta unica e poi farò un sorteggio per tutte queste 30 persone che mi hanno appunto aiutato a ricevere questa carta unica in regalo che dovrebbe almeno valere 300-400 euro nel peggiore dei casi come sempre un bel mi piace al video e ci vediamo alla prossima e ci vediamo